Sgravi sull'IRPEF e sulla tassa per i rifiuti per le famiglie che accolgono i profughi della guerra in Ucraina. È una delle richieste che il gruppo di accoglienza familiare ha avanzato all'amministrazione comunale di Caltanissetta per aiutare le famiglie che hanno deciso di accogliere i cittadini ucraini i quali hanno dovuto abbandonare le loro case a causa dell'invasione russa. Il gruppo di accoglienza, tra le altre cose, ha chiesto anche che vengano devoluti alcuni buoni spesa della Croce Rossa agli ospiti ucraini e che la prefettura e individui degli alloggi per i rifugiati in modo che possano vivere in autonomia. A Caltanissetta, dall'inizio dell'invasione russa, sono arrivati 45 cittadini ucraini. 9 sono rientrati in patria o si sono spostati in altre città italiane. 36 sono ancora ospitati da famiglie di Caltanissetta.